Ciao a tutti, benvenuti alla video visita della Villetta di Mauro. Ve la presento subito dopo la sigla. La Villetta di Mauro è il nostro riferimento 802. Cliccate sul link del post di Facebook o nella descrizione del filmato se siete nel nostro canale YouTube. Per vedere le planimetrie ed avere maggiori informazioni. Oppure contattateci con l'email chiamata vocale o videochiamata. Nella descrizione del video nel canale YouTube e nel post della pagina Facebook trovate tutti i nostri link. Ora vi mostro dove si trova la Villetta di Mauro. Con Google Maps è la nostra applicazione. Se vai in centro, in comune o nei negozi o da noi in agenzia, arrivi in 3 minuti. La mattina in 2 minuti porterai anche i bambini a scuola. E per i più grandi la fermata dell'autobus è a 100 metri da casa. È una delle zone residenziali più ricercate proprio perché avvicina a tanti servizi. Siamo in via Bolse, una delle zone residenziali più ricercate del paese. Zona giorno e zona notte sono al primo piano. Al piano terra, oltre ad un garage che è grande come monolocale, troviamo anche i servizi. Taverna, uno sgombero che adesso è utilizzato come palestra e da qui si esce anche in giardino con una seconda porta d'ingresso. È un bel bagno. L'ingresso è sul piano della casa e ora saliamo al primo piano. Questo è il soggiorno. Ha un bel pavimento in legno e una grande porta finestra che accede al balcone. È il balcone che troviamo sul ponte della casa. Questa è la sala da pranzo con una finestra bella grande ed è un ambiente unico con la cucina. Eccoci in cucina. Ha una porta finestra che va sul nostro balcone. È questo, bello grande, a faccia sul nostro giardino. Ed ora andiamo nelle camere da letto. Questa è la camera matrimoniale. Ha un bel pavimento in legno. E questa è la camera singola, bella spaziosa. Se vi serve la terza camera, potreste utilizzare la mansarda che tra poco vi faccio vedere. Il bagno, finestrato con vasca. Se vuoi guadagnare un po' di posto, puoi sostituire la vasca con una doccia. Ed ora saliamo e andiamo in massarda. Nella nostra pagina Facebook abbiamo dedicato un'intera puntata della rubrica Oggi parliamo di proprio alle massarde. Se la guardi ci sono tante idee su come puoi arredarla. Questa è grande ed ha due belle finestre che le illuminano. Tu come la useresti? Bene, la nostra videovisita è terminata. La villetta di Mauro è stata costruita negli anni Ottanta. Grandi ambienti interni, grande il giardino. Il nostro riferimento 802 la trovi nel nostro sito agenzia.contarini.it, nei 15 principali siti immobiliari italiani, tra cui casa.it, idealista, immobiliare.it. Contattateci per un sopra il luogo. I nostri recapiti sono nel post di Facebook e nella descrizione del filmato del canale YouTube. Ricordatevi il like, cliccate e seguimi sulla pagina Facebook e iscrivetevi nel nostro canale YouTube. Spero che la nostra videovisita vi sia piaciuta. Ciao!